signori pronti via nuovo video sul canale allora oggi voglio parlare di edwards contro belal muhammad che come abbiamo visto è finito in una maniera un po strana è finito per no contest per un high poke di edward nei confronti di muhammad un high poke sarebbe una dittata nell'occhio in questo caso involontaria chiaramente non è stato fatto apposta da parte di edwards però intanto ha causato un grosso danno all'occhio di muhammad e non gli ha permesso più di andare avanti quindi di continuare il match questa cosa delle diciamo le dittate negli occhi era già venuta fuori in passato quando ci sono stati altri infortuni o comunque altri stop arbitrali per questo per questo motivo qui se ne era già parlato di un cambio di guanti però non è stato preso in considerazione dalla ufc dicendo che non era una cosa così importante su cui si dovrebbe lavorare a mio modo di vedere invece non è così perché innanzitutto può veramente causare dei danni gravissimi agli occhi degli atleti e quindi basterebbe fare un pelo più di attenzione nella ricercatezza dei materiali e nella lavorazione dei guanti e si risolverebbero un bel paio di problemi in questo caso edwards tirando un middle kick ha praticamente messo la mano avanti in questa maniera qui l'avversario è venuto avanti e si è preso una dittata nell'occhio io ho qui dei guantini ufc avevo già fatto un video a riguardo ma lo ripassiamo ho qui dei guantini ufc questi sono quelli di marvin quando ha debuttato il primo match ufc e me lo metto vi faccio vedere vi faccio vedere due cose allora questi guantini qui sono fatti in un modo che è praticamente impossibile per il fighter a meno che non colpisca tenere la mano chiusa perché hanno una durezza del materiale veramente incredibile cioè diciamo la parte che si chiude e la parte di imbottitura è veramente durissima cosa vuol dire che se io tiro un pugno chiaramente andrò a chiudere la mano in questa maniera qui se io tiro qualcos'altro come in questo caso un middle kick e carico col braccio non vado a chiudere la mano il guantino dovrebbe farlo per me cioè dovrebbe permettermi di tenere la mano in questa maniera qui avendola in questa maniera qui anche se l'avversario viene avanti è molto più difficile che i suoi occhi entrino in contatto con le mie dita o le mie dita entrino in contatto con i suoi occhi invece se io lascio la mano totalmente rilassata come vedete le dita sono totalmente in avanti ve lo faccio vedere un po più da vicino vedete praticamente io qui ho la mano rilassata e cosa succede le mie dita sono esattamente in avanti perché ho la mano rilassata cioè questa parte qui del guanto e questa parte qui non aiutano a tenere chiusa la mano basterebbe veramente poco per starci più attenti quando si fanno i guanti quando si creano i guanti perché basterebbe mettere una specie di ad esempio materiale elastico qui che tanto qui non c'è nessun tipo di imbottitura quindi non andrebbe a cambiare i danni che si possono fare picchiando a martello per tenere la mano leggermente più chiusa quindi se io ho del materiale qui che mi tiene la mano leggermente più chiusa vedete che da qui le mie dita si chiudono non cambierebbe nulla a livello di grappling perché posso comunque chiudere le mani senza problemi e andrebbe ad aiutare molto questo problema qui che c'è di mettere le dita negli occhi alla gente non è la prima volta che capita e praticamente cioè è abbastanza imbarazzante sta cosa cioè ho le dita completamente in avanti io tenendo la mano rilassata quindi capite che è un problema abbastanza grosso questo perché non volendolo i fighter o colpiscono ma non volendo ficcano le dita negli occhi alla gente puoi anche cavare un occhio a uno facendo così quindi secondo me ci vorrebbe un po più di attenzione da parte della UFC perché questi guantini sono veramente cioè sono proprio base 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 non c'è ricercatezza sono gli stessi di 10 anni fa se voi prendete qualche guantino di anche marche che non vengono usate in UFC quindi marche diciamo inferiori possiamo dire così ma non penso sia così in realtà come qualità dei materiali e come fattura sono meglio ad esempio i guantini che venivano usati al Venator dell'Adidas già quelli la mano non è così è leggermente più chiusa oppure i guantini che usano i fighter per allenarsi hanno una zona qui con maggiore imbottitura ok che quella basterebbe togliere però sono fatti in una maniera che le dita stiano in questa maniera qui quando tu hai la mano rilassata puoi comunque stenderli però è leggermente così io qui non posso neanche cioè così è rilassata la mano io se volessi per estendere le dita non ce la faccio nemmeno perché c'ho questa parte qui che è veramente dura cioè faccio veramente fatica ad aprirla di più la mano quindi come ho già detto in un altro video penso che i guantini della UFC con tutti i soldi che investono per ricerca e sviluppo ad esempio nel performance institute per fare dei test potrebbero veramente essere fatti con anche un budget molto piccolo per la UFC parliamo sempre delle tasche UFC potrebbero essere fatti molto meglio questi qua non sono mai stati sviluppati cioè se vi date in testa non so se si sente sono duri come il ferro se li do se li do sul tavolo proviamo a vedere se si si sente avvicino al microfono cioè come come prendere un assetto di legno un asse di legno e batterla addosso a qualcuno ho capito che non è una delle priorità salva a guardare i fighter a quanto pare però basterebbe tenere anche lo stesso diciamo la stessa grossezza di imbottitura quindi quattro once però avere un imbottitura leggermente più morbida perché questa non è cioè è veramente come avere un sasso all'interno dei guanti e oltre avere le dita non aiuta neanche a pigliare i pugni in faccia chiaramente i guanti sono nati semplicemente per salvaguardare le mani e le nocche e non le teste perché se tu dai un pugno a un cranio si rompe la mano non si rompe il cranio quindi ricordiamo che i guantini servono per salvaguardare le mani e non le teste le facce però con un po più di impegno nel nei materiali nella ricercatezza diciamo di questi guanti insomma si potrebbe fare molto meglio se li vedete da vicino non sono chissà che guanti adesso li faccio vedere da vicino questi sono i guanti ufficiali UFC vi faccio vedere di profilo anche non sono non hanno una qualità incredibile no visti di molto migliori anche a livello di cuciture cose del genere comunque una cosa che si fa quando ti danno i guanti perché ogni volta che vai sono guanti nuovi impacchettati quello che fai per cercare appunto di ammorbidirli leggermente perché sennò fai semplicemente fatica a stringere la mano perché sono di piombo sti guanti è far questo chiaramente non il fighter ma il suo team li ribalta cioè così praticamente cerchi di metterli a testa in giù in questa maniera qui tanto non si rompono perché appunto sono fatti di piombo sti guanti e cercando di muoverli il più possibile questo si fa lo fanno tutti praticamente cercando di farli rovesci stringerli si cercano di ammorbidire un po perché veramente da nuovi questi sono già stati usati figuratevi da nuovi cioè si fa questa manovra qui per cercare di ammorbidirli leggermente perché sono fatti di piombo e quindi la ufc forse ora che inizia a investire un po di soldi anche per proteggere i fighter e non solo per la propria la propria diciamo banca personale il proprio tornaconto personale perché già con la riboc ha fatto i deal e con la venom adesso a breve ha fatto i deal quindi ha fatto i contratti dove la ufc cassa un sacco di soldi e ai fighter arrivano veramente due lire rispetto a prima del monopolio riboc dove i fighter potevano avere ogni fighter poteva avere i suoi sponsor sulle braghette ad esempio o entrare in gabbia con la maglietta con gli sponsor adesso c'è il monopolio e la ufc avendo dato il monopolio alla riboc la riboc si può permettere di pagarti pochissimo perché tanto non puoi usare nient'altro quindi i soldi che ti do devono andarti bene se si preoccupasse un po di più anche oltre che del portafoglio anche della salute perché ok finché non si preoccupa molto del portafoglio dei fighter può essere una scelta che fa arrabbiare molta gente però insomma non non suscita diciamo tutto questo fervore in molte persone quando si parla di sicurezza e di diciamo salva guardare la salute dei fighter in questo caso gli occhi ma anche semplicemente le teste si potrebbe fare molto meglio con i guanti siamo nel 2021 insomma avere i guanti che c'erano nel 2010 identici insomma si potrebbe fare un po meglio nulla questo era un video veloce semplicemente per appunto farvi vedere i guanti farvi vedere i guanti della ufc e farvi vedere che praticamente sono di piombo e non riesci a tenere chiuse le dita quindi non mi sento di condannare edwards per queste dittate negli occhi quello che magari herb dean poteva stare leggermente più attento era richiamare ancora una volta edwards perché abbiamo visto che dopo il primo richiamo più di una volta edwards ha comunque messo le dita in questa maniera andando indietro e è molto pericolosa questa cosa appunto è colpa dei guanti però insomma non mettere la mano alla john john sarebbe sarebbe tanta roba nulla raga grazie di essere stati qui ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi commentate fatemi sapere la vostra sui guanti e tutto il resto ci vediamo questa settimana con il podcast che vediamo se riusciamo a portarvi un super ospite mi sto sentendo con scatizzi se non è questa settimana sarà settimana prossima quindi ci vediamo in diretta per il podcast ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi